4, 2, 2, RACE! Felipe, due belle gare a Spa e a Monza. Facciamo il tris a Singapore? Tocchiamo il legno prima. Sicuramente sono state delle buone gare a Spa e a Monza. Importanti punti, specialmente guardando come è iniziato il campionato a confronto di come abbiamo iniziato adesso la seconda parte. Singapore è una pista dove mi piace, anche se non sono stato molto fortunato lì nel passato, però è una pista che mi piace e spero sicuramente di continuare così e di fare un risultato, spero ancora meglio di Spa e Monza. Ma correre di notte dà dei problemi particolari o è con l'illuminazione che c'è indifferente? No, per me è indifferente. Certo che è peggio che di giorno, sicuramente, però ci sono delle buone illuminazioni dove riesci a avere una visione, una visibilità normale, come se sei una gara di giorno, più o meno. Quindi non è un problema. E dal punto di vista fisico adattarsi all'orario crea delle difficoltà? No, perché non cambiamo l'orario. Io a Singapore vado a dormire alle 5 della mattina e mi sveglio a luna. Quindi sicuramente la gara lì è alle 8 di notte, che è esattamente come se fosse alle 2 qui. Quindi non cambia niente. Usiamo esattamente l'orario europeo a Singapore, che è anche diverso, perché andiamo a letto alle 5, si sveglia a luna, quindi è totalmente strano. Però è così che usiamo tutti i giorni del weekend. Le caratteristiche del circuito sono simili a quelle di Monaco e dell'Ungheria. Considerato come sono andate queste due gare quest'anno, quali pensi che siano le chance della Ferrari? Sì, c'è una caratteristica come Monaco, anche il tipo di pista. Un po' Ungheria nel senso che ha bisogno di tanto downforce in generale. C'è anche una usura di gomme più alta di Monaco. Però è un po' su quella direzione. Abbiamo avuto una buona macchina a Monaco e Ungheria un po' meno. Quindi speriamo che Singapore sia più come Monaco che come Ungheria. Hai parlato di gomme. L'anno scorso fu una gara particolarmente difficile da quel punto di vista. Considerato i cambiamenti che sono stati fatti sulle Pirelli quest'anno e il comportamento della nostra vettura, ti aspetti qualcosa di diverso? No, mi aspetto una gara molto difficile sulle gomme. Abbiamo le stesse gomme, abbiamo la Soft e la Super Soft, che è esattamente quello che abbiamo avuto l'anno scorso. E' stato un anno dove si è usato abbastanza le gomme. Quindi mi aspetto una gara dove ci sarà più pit stop che abbiamo fatto a Monza e anche a Singapore. Quindi mi aspetto un po' sulla direzione dell'anno scorso, una usura abbastanza alta sulle gomme. E' d'obbligo una domanda in questa fase dell'anno. Novità sul tuo futuro? No, ancora niente. Sicuramente i risultati aiutano. Spero che non ci vorrà tanto tempo per avere una novità per il futuro. Quindi dobbiamo continuare così, spingere sui risultati e quello che voglio. Però spero che possiamo avere una buona notizia presto. L'incertezza ti causa un po' di pressione extra o riesci a gestirla normalmente? Ma è sempre meglio sapere quello che farai e dove correrai l'anno prossimo. Però alla fine non è mai capitato per me essere in macchina dentro della gara a pensare cosa farò l'anno prossimo. Questo non capita perché hai tante cose da pensare per avere un buon risultato che è difficile avere quello. Certo che il risultato conta tanto. Se tu devi rischiare tantissimo magari pensi due volte perché devi anche pensare in arrivare alla fine della gara. Il Gran Premio di Singapore sarà il 500esimo della partnership fra la Shell e la Ferrari. Cosa ci puoi dire dal tuo punto di vista di pilota di questa collaborazione? Ho un po' di esperienza perché ho fatto anche il 400esimo Gran Premio per la Shell perché ho già fatto più di 100 Gran Premi con la Ferrari. Ma è sicuramente qualcosa di molto speciale perché non solo molto speciale ma molto importante perché la Shell a parte essere la nostra benzina però è un partner che lavora insieme per migliorare la macchina. Noi miglioriamo la macchina ogni gara, abbiamo dei sviluppi ogni gara e tanto arriva della benzina, tanto arriva dell'olio di motore, pressione in generale che è 100% legata alla Shell. Quindi la macchina è competitiva, la macchina è buona per tanti punti però un punto molto importante è la Shell. Quindi guardando dall'inizio quando ho iniziato a lavorare con loro e guardando adesso se tu vedi quanto si riesce a sviluppare una macchina in questo lato ogni anno è tantissimo. 4, 2, 2, RAISE! Grazie!